Corre il ripari l'ASP dopo la nota della consigliera comunale del Partito Democratico Annalisa Petito sui deficit di comunicazione tra medici e parenti dei pazienti ricoverdati all'ospedale Sant'Elia e soprattutto dopo l'affissione del cartello che detta le regole in modi tempi di accesso al pronto soccorso per i congiunti dei ricoverati. Il direttore di presidio Benedetto Trobia ha inviato una direttiva ai primari dei reparti sollecitando maggiore solerzi e puntualità nel rispettare le regole di comunicazione in maniera tempestiva, sottolinea Trobia. Dunque una sollecitazione da parte del direttore sanitario dell'ospedale Sant'Elia e dall'altra una risposta meno tecnica e più politica da parte del direttore generale Alessandro Caltagirone. E' molto più di moda prendersela col direttore generale, afferma Caltagirone, forse perché non si conosce bene la struttura aziendale e la responsabilità ad ogni livello dell'organizzazione ma siamo abituati anche a questo, conclude.